E questo è il giorno clou per questa settimana per i mercati finanziari. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Ragazzi, qui oggi andiamo a vedere una serie di giornate importanti per questa settimana perché c'è la solita sfilza dei dati che potrebbe assolutamente modificare quello che sono le attuali tendenze dei mercati che andremo a vedere in questo video. Ma c'è anche poi da andare a vedere nel video di oggi questo grafico che è quello dell'attesa del rialzo dei tassi della Fed che è leggermente modificato non in maniera importante ma c'è una cosa che bisogna andare a constatare che potrebbe in effetti proprio modificare un po' i corsi generali. Andiamo poi a vedere un altro grafico che è quello del contest di FTX ragazzi con la classifica italiana dei trader che abbiamo stravinto anche sulla Spagna. Poi andiamo invece a rispondere alla domanda abbiamo fatto un massimo di periodo, un massimo relativo perché andremo a vedere analisi ciclica, tecnica e tutto quello che c'è da vedere anche da un punto di vista grafico. Ma prima di tutto, sigla! E ciao Steph, sì, sì, ciao, sì, ma la sigla non me l'hai mai andata la sigla? Ah, sei in tour, quando finisci? Non me la mandi, perché? Ti devo dire, la coin deve oscillare la crypto che fa il 1000% l'anno prossimo? Vabbè, però me la mandi poi, ok, va bene, va bene, te la dico, ok. La crypto che fa il 1000% l'anno prossimo è... Scherzi da parte, spostiamoci subito ragazzi sui calendari economici per andare a vedere un po' che cosa succede questa settimana. Ho ributtato giù uno dei miei gag, era un po' di tempo che non le facevo ragazzi. Preparatevi anche all'Ukulele che magari lo rimettiamo in moto, va bene. Allora, prima cosa da vedere, oggi il tasto di inflazione IPC dell'Europa è salito ancora, mannaggia ragazzi, era atteso in fase di salita, 10,2 è più alto del previsto. Europa massacrata, non si può dire diversamente dalle sanzioni, da tutto quello che è stato il macello della guerra in Ucraina, un disastro da tutti i punti di vista. Purtroppo ancora la politica della PCN non è in grado di contrastare questa inflazione, si vede ovviamente, ma è anche una politica che è iniziata molto più tardi rispetto a quello della Fed e questo è il vero motivo per il quale ancora l'inflazione probabilmente non è sotto controllo, ma dovranno lavorare tantissimo proprio su questa questione. Questo rialzo comunque è un po' superiore al previsto, non ha scioccato i mercati in maniera importante. Certo, sono scesi ragazzi ovviamente, però non in maniera rilevante, soprattutto perché è un po' sempre gli USA, gli Stati Uniti e il Nasdaq 100 che sta comunque spingendo, tirando giù le Crypto, Bitcoin, Ethereum che invece la settimana scorsa hanno avuto un bello slancio. Andiamo però a vedere quelle che sono direttamente le giornate clou ragazzi, che poi è quello che ci interessa in maniera principale. La giornata clou secondo me è il 2 novembre in questo caso ragazzi, perché il 2 novembre avremo una serie di dati molto rilevanti, tra cui la decisione sul tasso di interesse da parte della Federal Reserve e la conferenza del FONC, che sono comunque molto rilevanti. E poi ci sono le cosiddette, sempre le solite, scorse di petrolio, che avete visto anche come hanno modificato un po' l'andamento con i Fresh Pump, quando eravamo per esempio in Olanda alla Bitcoin Conference e un po' questa cosa potrebbe ricapitare proprio in questa situazione. Poi il giovedì 3 novembre avremo il discorso della LaGuard e le richieste di sussidi di disoccupazione che potrebbero incidere, però sostanzialmente, qui c'è il tasso di disoccupazione, ma dipende da queste, quindi diciamo sono due dati che sono fondamentalmente correlati l'uno all'altro. Quindi direi che mercoledì 2 novembre, attenzione, preparate alla volatilità, perché se la Fed sciocca i mercati, che si dice ci sono sciocchi i mercati, cioè rialza i tassi meno del previsto, allora le cose saranno boom 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 boom. Ragazzi, questo è netta la questione, quindi si potrebbe anche giocare una partita da trader intraday speculativo, quindi solo per speculazione, proprio sulla questione che la Fed potrebbe scioccare i mercati e quindi alzare i tassi di meno dello 0,75, quindi di 0,5 e questo provocherebbe un flash pump su tutti i mercati. Quindi se succede una cosa del genere, è in effetti questa cosa un po' è già, è anche indicata da quelle che sono le previsioni per quanto riguarda i possibili rialzi dei tassi della Fed, ragazzi, queste previsioni trovate sul sito del CME, mancano due giorni, vedete, next phone meeting. Ovviamente le probabilità di rialzo restano ancorate allo 0,75 basis point, quindi sono molto più alte a quello del 0,75 basis point, ma io vi vorrei fare notare questa questione qui, cioè che un po' di giorni fa era sostanzialmente più basso questa previsione che la Fed potesse alzare i tassi di 0,5 e non di 0,75, perché era il 24 ottobre al 4,5%, questa previsione, poi era schizzata la settimana del 28 ottobre al 17,8 e adesso sta un po' tornando indietro e se ci fate caso, così si sono mossi esattamente i mercati finanziari, ragazzi, andando proprio a seguire questa un po' previsione, quindi è tutto da quel dato che dipende anche nel brevissimo periodo, chiaramente quello che è lo sdlancio dei mercati, voi sapete che io sono contrario totalmente alle news come indicatori che possono muovere i mercati, come market movers, le news non muovono i mercati perché sono tutte scontate, ma questa news no, ragazzi, quindi solo e esclusivamente in alcuni casi le news sono rilevanti e anche in alcuni momenti particolari del mercato, questo momento probabilmente passerà tra qualche mese e anche questo dato sul rialzo dei tassi sarà scontato e il mercato non muoverà i mercati, ma in questa fase precisa e in questo momento preciso questo tipo di dato lo muove. Se ci fate caso, ragazzi, guardate qui un mese fa, soltanto un mese fa, il mercato pensava che il tasso di interesse della Fed dovesse essere un rialzo dello 0,5% per il 43% delle previsioni. Questo discorso qui è andato peggiorando per tutto il mese e provocando anche in sostanza un po' di ritracciamento sui mercati americani, quindi è stato tutto collegato. Ecco per questo il giorno 2, il giorno clou senza dubbio di questa settimana, ma passiamo a un altro argomento, un altro grafico più figo, cioè il grafico di chi ha vinto il contest di FTX, ragazzi, contest di trading, che ha organizzato FTX insieme a me, a TradingOn e altre community italiane, quella di Luca del Crypto Gateway e di Emiliano Afterside e anche i spagnoli, ragazzi, con altri tre influencer della Spagna. È stata la prima edizione, è andata molto bene come numero di iscritti, il vincitore ha vinto con circa il 253% di rendimento. moltissimi di voi hanno scritto, sì Mauro, però se hanno giocato un po' a gambling con 100 dollari è facile. Questa cosa è assolutamente vera, ma ne parliamo in un video specifico, perché domani faremo una live dedicata esclusivamente al contest di FTX, e cercheremo di essere un po' chiari su che cosa è successo durante il contest, andremo ad analizzare tutto quello che è avvenuto e anche le strategie che sono state utilizzate su FTX, ragazzi, sull'exchange, quale sono andate bene, quale non sono andate bene, quindi sarà una live proprio dedicata. Ovviamente sul canale Telegram tutti i link relativi a questa live. vi faccio vedere anche la classifica generale della Spagna, questa è stata la classifica della Spagna, che alcuni trader, insomma, non hanno proprio tradato, insomma, è un po' da rivedere, mentre poi io sono estremamente fiero della classifica della mia community, Trading On, ragazzi, che praticamente ospita tutti i trader più forti d'Italia all'interno proprio della nostra community, quindi anche in Academy abbiamo festeggiato questa cosa, sono stracontento, anche le altre community degli altri influencer sono andati discretamente bene, però erano di meno gli iscritti, quindi anche quella di The CryptoCat, questi sono i risultati, e questa è quella di Afterside. Sono, perciò, ragazzi, estremamente contento di avere visto questo Instagram a partire dal trader Contest RQ8, che ha preso il 253%, e poi fa scalare, guardate che bella curva in pratica, è esattamente quella, della parte alta dell'Italia. Non vi perdete in nessun modo la live di domani, perché è una live molto bella, in quanto sarà piena zeppa di analisi, soprattutto di strategie, di concept, per chi vuole ragionare sull'ambito trading, e anche sull'ambito investing medio-lungo, ragazzi, non buy and hold, e questo è molto molto interessante, quindi per tutti il link in descrizione è su Telegram, ma passiamo a rispondere alla domanda. Ma abbiamo fatto per caso un massimo di periodo nella scorsa giornata di sabato, i mercati hanno fatto bam bam, proprio una giornata di sabato, e Tiriomo ha sfondato anche alcune quote molto rilevanti nella giornata di sabato, portandosi a un livello, diciamo di massimo vicino ai 1700 dollari, stavo controllando di preciso. La domanda a questo punto da farsi è abbiamo fatto un massimo, oppure i cicli ci dicono che ancora c'è tempo. Andiamo a rispondere a questa domanda, ragazzi, con la nostra classica analisi su quello che sta avvenendo sui mercati. Allora, analisi tecnica e ciclica di Bitcoin. Il mensile di Bitcoin è iniziato il giorno 13 di ottobre, ed è proprio nella sua fase pump. Se appunto vi ricordate, qualche settimana fa, una settimana circa fa, abbiamo proprio analizzato in maniera precisissima questa fase di pump, e fortunatamente il mercato ci ha dato ragione, dando anche un ottimo livello di profitto alle operazioni intraday, operazioni che io ancora ho in long, ragazzi, anche quella su Ethereum, che ha raggiunto la percentuale del 1000%, sempre ovviamente con la leva, vi dovete dividerlo, in realtà siamo vicini al 30%, ovvero, è una comunque operazione di trading assolutamente molto molto bella, ve la faccio vedere. Eccola qui ragazzi, l'operazione che volevo farvi vedere, esattamente proprio questa qui su Ethereum, è quella che abbiamo visto anche la scorsa, settimana, ed è un'operazione che non ho chiuso, perché ancora non c'è stato un vero segnale di inversione su questa tipologia di operazione, anzi, il mercato ci è fermato, vedete, su questo livello di resistenza ai 1700%, per quanto riguarda Ethereum, mi interessava proprio questa fase ribassista che state vedendo in questi giorni, adesso ve lo spiego quando andiamo ad analizzare Ethereum, perché nel brevissimo, chiaramente, questo sdlancio non è uno sdlancio che è così insomma piccolo, è uno sdlancio importante, se i mercati lo riescono a mantenere, non facendo una figura di inversione da qua, perché per esempio potrebbero fare una cosa del genere, a quel punto sarebbe un fake, quindi finirebbe con un ripristino del trend a ribasso, se dovesse mantenersi una cosa del genere, potrebbe in effetti Ethereum andare a tentare lo sfondamento di questo livello di resistenza, dandomi un gain ancora più importante, come vedete io spesso faccio anche operazioni di trading, che però ragazzi non sono dei trade da scalper o roba del genere, che sconsiglio ovviamente a tutti per milione e mezzo di motivi, che magari un giorno vi spiegherò, che sono anche analisi di natura oggettiva, quantitativa, chi è comunque un analista quantitativo, sa quello che sto dicendo alla perfezione, però quando si fanno dei trade, si possono anche tenere per un po' di tempo, e se il mercato ci dà ragione, anche qualche mesetto, quindi non è che poi alla fine il trading è solo stare sempre sui grafici, ok, in questa posizione l'ho aperta qualche settimana fa, e sta ancora lì, sta immaginando cash, gain, ovviamente non chiuderò mai i massimi, lo sapete come ragiono io, però ci sta. Allora, intanto l'ho aperta su BitGet, vi lascio i link in descrizione per la promo che hanno, e ovviamente mi date una mano con i ref ragazzi, perché è una promo molto interessante, in quanto sul deposito di 200 dollari, avete la possibilità di vincerne 100 di trading bonus, per testare la piattaforma, e poi vi danno 5 dollari così, per comprarvi il caffè, quando andate a registrarvi, però l'exchange mi trovo bene, è molto interessante, è un'alternativa anche a FTX, ragazzi, quindi ha una leva molto più alta, e per quello che l'ho scelto, perché FTX ha una leva un po' più bassa, sono due exchange complementari, mi piace come stanno insieme, per due strategie diverse, e quindi vi lascio i link in descrizione, passiamo e torniamo a quelle che sono invece le analisi cicliche. Ed eccoci qui ragazzi, allora perché questo mensile iniziato il 13 di ottobre, potrebbe ancora spingere su Bitcoin, devo essere sincero, Bitcoin è un po' deboluccio ragazzi, è un po' deboluccio rispetto a tutto l'ecosistema delle altre cripto, questa cosa potrebbe non perdurare nei prossimi mesi, per alcune questioni che magari saranno, le affronteremo con calma nei prossimi video, perché ci sono delle questioni che secondo me bisogna estremamente approfondire, che riguardano le regolamentazioni del settore criptovalute, però ragazzi, in linea di massima, quello che sto vedendo e si stiamo assistendo un po', è una debolezza di reazione di Bitcoin, che riesce sì a reagire, però in maniera un po' da bradipo, cioè mezzo addormentato, sta lì, insomma continua a salire in maniera rilevante, c'è un po' forza e poco marketing verso Bitcoin, è un po' una fase in cui tantissimi hanno iniziato ad abbandonare l'idea che c'era di fondo, secondo me il re delle cripto ha tanto da dire, lo vedremo nelle prossime, nei prossimi mesi probabilmente o nei prossimi anni, però al momento questa è, e ragazzi e quindi noi siamo trend follower e guardiamo i mercati, allora sale, sale però vedete è un po' cappato da una serie di questioni, allora il ciclo mensile inizia il 13, quindi ha una sua naturale scadenza verso la metà di novembre, questo potrebbe anche spingere Bitcoin, se i dati di mercoledì proprio 2 novembre sono molto buoni, c'è lo shock inflattivo della Federal Reserve, cioè un rialzo dei tassi inferiore, un shock inflattivo scusate, ho sbagliato, o è un rialzo dei tassi più basto per combattere l'inflazione, ok? Allora questo potrebbe causare uno spike rialzista, per poi andare a chiudere questo ciclo mensile, partendo da più in alto. In effetti Bitcoin è arrivato, come vedete in questo grafico, vicino al mio target di rialzo per questo mensile, che era impostato intorno a 21006, se qualcuno di voi si ricorda più o meno quello, era quello che vi avevo detto, 21006, che era anche il target dell'operazione che avete visto, Long, anche su Ethereum, ma l'ho fatta anche su Bitcoin la stessa ragazzi, sempre su Bitcoin, per la strategia mensile che utilizziamo nella mia Academy, una sola operazione in tutto il mese. Abbiamo fatto gain questa volta, però mi aspettavo più forza, è la questione che Bitcoin non spinge tanto, siccome quella è una strategia only long, chiaramente allora un po' ci penalizza, però l'importanza è comunque continuare a fare cash, soprattutto fare gain in un anno come questo ragazzi. Poi magari un giorno vi presento anche i risultati di quella strategia che stiamo seguendo, un po' complessa magari alcune volte da seguire, però è interessante. Allora, questa era l'area di target e non c'è arrivato, quindi o nelle prossime due giornate, qui andiamo a riprendere, a dire la verità ragazzi, dovremmo già riprendere da oggi, mentre sto registrando, quindi lunedì intorno alle, sto registrando intorno alle 17 ragazzi, quindi questa zona, questa candela dovrebbe essere già ripresa nella giornata di oggi, Bitcoin andrà a chiuderci magari intorno ai 20.000 e 5, 20.000 e 6, sarebbe molto buona questa cosa qui, se addirittura riesce a fare un 20.000 e 7 è ancora meglio, da lì in poi domani, dopo domani deve spingere per cercare di entrare qui dentro. Ora, domani è l'1 di novembre, il 2 è dopo domani, quindi domani e dopo domani appunto dovremmo assistere a questo pump, che dipenderà esclusivamente dai dati che avete visto probabilmente, perché avrà in quel caso un po' poco tempo di esprimersi, perché poi dovremmo andare a chiudere questo ciclo mensile, quindi un pump che viene generato magari potrebbe durare fino poi alla fine di questa settimana, poi dovremmo iniziare una fase ciclica di debolezza ragazzi, però qualcuno di voi adesso dirà, allora dopo il pump avendo subito, non c'entra niente, non si fa così, ne si ciclica assolutamente, perché potrebbe semplicemente salire, poi restare fermo fino a metà di novembre e poi ritornare a salire con un nuovo ciclo mensile, quindi non si fa così, va bene, no previsioni finanziarie, non ve ne do, nei video di YouTube ragazzi, e soprattutto non improvvisate se non sapete che state facendo, va bene, che poi non va bene, quindi però io un po', questa è la mia idea del motivo per il quale avete visto che anche l'operazione su Ethereum è ancora long, e anche quella su Bitcoin, per questo motivo, però quella su Bitcoin oggi chiude, perché oggi chiude il mese, e quindi noi con quella strategia chiudiamo, se le cose non sono andate a take profit, chiudiamo comunque alla fine del mese, e poi si riparte, nuova strategia, e quindi le strategie si seguono sempre al di là delle aspettative, quindi io faccio alcune cose discrezionali, poi mischio con altre strategie di altro natura, passiamo direttamente a Ethereum perché mi garba di più, quindi poi facciamo Nasdaq alla fine, allora Ethereum ragazzi, la questione è un po' questa, il mensile di Ethereum, anche lui probabilmente ha iniziato il 12, anzi sicuramente ha iniziato il 12 di ottobre, il 13 di ottobre, ed ha fatto questa struttura, che è un'ottima struttura da ciclo mensile, ora potrebbe aver fatto il massimo anche lui, perché a differenza di Bitcoin, Ethereum è arrivato nella mia area target, cioè 1700 dollari, quindi l'area target Ethereum l'ha raggiunta, però ragazzi è anche estremamente forte, rispetto a quello che io pensavo, e poi c'è questa configurazione qui, che dovete assolutamente attenzionare, cioè il fatto che Ethereum ragazzi, abbia una struttura del nuovo ciclo annuale, che a questo punto lo faccio partire a giugno, ma del ciclo annuale, ne parliamo questa settimana, quindi ragazzi mi raccomando, sarà una settimana piena di video, perché dobbiamo ragionare sul ciclo annuale delle crypto, che ha una probabilità molto più elevata, da adesso in poi, di essere iniziato appunto a giugno, purtroppo direi io, perché preferivo che invece fosse in chiusura, proprio in questi giorni. Allora, questa struttura qui, è una struttura che, guardate che cosa sta facendo su Ethereum, 1, 2, 3, questa zona o questa zona è la stessa, se volete la rifaccio qui, che è un vero minimo, comunque, e questo è il nuovo trend. Ora, per tutti gli amanti, della questione legata, all'analisi tecnica, e all'analisi statistica del trend, noi abbiamo un minimo superiore a un altro minimo, e un massimo proiettato di Ethereum. Quindi, questo significa, che anche se siamo in una specie di trend leggermente laterale, questo trend di Ethereum, è teoricamente proiettato ad essere un trend al rialzo, perché potrebbe andare a breccare tranquillamente i 2000, in quanto non ha nessun tipo di vincolo, da un punto di vista statistico, nel dover tornare a riscendere. Se è anche vero che, probabilmente, non sarà possibile per Ethereum andare a fare nuovi massimi, da solo, contro tutto il pianeta, questo è molto difficile che avvenga, però, c'è da dire, ragazzi, che la configurazione di questo tipo di struttura, è rialzista, quindi, da un punto di vista, di medio periodo, oserei dire, in questo caso, questa proprio fase mensile, potrebbe, magari, chiudersi così, per poi dare lo slancio a un nuovo mensile, che potrebbe tentare proprio il break qui. Ora, siccome se l'annuale è iniziato a giugno, noi andiamo a chiuderlo poi l'anno prossimo, io credo che una fase di questo tipo, con un nuovo break di eventuali 2000 dollari per Ethereum, possa avvenire solo ed esclusivamente, se i mercati standard continuano a salire. se questa cosa non avviene, ce ne accorgiamo subito però, quindi, anche da un punto di vista di cambio, di change del nostro scenario, di previsione, non è difficile, perché questa struttura qui, probabilmente, dipende da come chiude, intanto, questo mensile, quindi, se qui ha fatto il massimo, e il mensile ci va a chiudere qui, probabile che il prossimo non ce la faccia, ma se il prossimo non ce la fa, inizia a scendere, questo è il massimo di questa fase, e quindi qui non ci arriviamo ragazzi, ok? Quindi è facile sostanzialmente, Ethereum ha un grafico molto più semplice, e questo concettualmente è un vantaggio, per chi magari in questo momento, può tentare delle posizioni, magari anche su AlterCripto, perché non ho più volati, li ho correlati all'Ethereum, può fare tante cosette, a dire la verità, io un po' ho iniziato a mettere qualcosa, in un mini portafoglio, perché sto, anticipando delle cose, però è un tentativo, straspeculativo, di cui non vi parlo, magari lo dico in Academy, perché è una follia, quindi insomma, non mi metto qui a dire cose, che poi la gente segue, e non sa che cosa fare, però magari poi facciamo un TopCripto, che ci sta sempre su YouTube, TopCripto va alla grande, va bene ragazzi, le TopCripto della settimana, vabbè del mese, diciamo più così, allora andiamo a vedere, l'ultima questione di Nasdaq, perché c'è anche qui, un dato bellissimo, cioè il fatto, che Nasdaq abbia superato, la media mobile a 21, ed ha fatto il pullback, questo qui, che vedete proprio, in questa fase, in questa fascia, quando è salito, ha breccato, poi è ritornato giù, ha fatto il pullback, e poi ha ripreso, quindi anche qui ragazzi, se Nasdaq ha iniziato, il ciclo annuale a giugno, come probabilmente è avvenuto, questo è un ciclo annuale, ribassista, per cui non c'è storia, non si può avere, un grande sbrancio, fino all'anno prossimo, questo coinciderebbe, anche con la questione, dei dati macro, quindi non mi, cioè non mi stupisce, però nulla vieta, all'indice tecnologico, degli Stati Uniti, di poter magari, gestire questa struttura, in questo modo, cioè andare a fare, magari una cosa, di questo tipo, e insomma, ovviamente sarebbe, per me il top, no, perché è una cosa, un ciclo ribassista, che si va a chiudere, in laterale ribassista, con dei minimi, che sono molto vicini, sarebbe il massimo, e poi lascerebbe, non ve lo nascondo, grandi mano libera, ai trader, perché, con un ciclo di quel tipo, ragazzi, è Bancomat 2, perché, cioè, se lo so se avete visto, il trend di Nasdaq, sono talmente lineari, che veramente, ragazzi, è un Bancomat, per un trader, se fa una cosa del genere, chiude così, è un Bancomat, e siccome la Fed, ha una questione, la Fed ragazzi, perché, quando alza i tassi, comunque li fa in maniera programmata, quindi un po', una macchina c'è, dietro un sistema, un bottero, che va a vendere, automaticamente, quindi in pratica, questi trend lineari, avvengono, perché, sono un po' pilotati, in questa fase, no? Quindi si ci può, come si dice, Davide contro Golia, si ci può un po' speculare, portandosi a casa, il rendimento, di qualche annetto, di se fai, una decina di anni, di se fai, in un trade, vabbè, detto così, scherzi a parte, la questione del Nasdaq, sul mensile, è questa qui ragazzi, qui è iniziato, il nuovo mensile, anche lui, sul 13, però questo crascione, che aveva fatto qui, l'ha recuperato, teoricamente, siamo in una fase, di, vedete, qui ha fatto una, 10 barre, circa, quindi 14 giorni solari, dovrebbe, appunto, strutturarsi, un ciclo, che anche qui, vedete, sembra mancare, di qualche spunto, quindi potrebbe, tranquillamente, domani o dopodomani, fare boom, andare a chiudere questa fase, e poi magari, chiudere il ciclo, quindi, ecco il motivo, per il quale, io penso, che fino, al giorno 2, 3 di novembre, dovremmo attendere, per capire, se abbiamo fatto, un vero massimo, con i mercati dell'ecrito, già la giornata di oggi, però molto significativa, andate a monitorare, se Bitcoin chiude, sopra i 1.500, 1.700, i 2.500, 2.500, 2.500, 2.500, sentite a me, 20.500, 20.700, ho ancora la testa, sviltero, al Lugano Polo B, ragazzi, e se, Ethereum sale, sopra, 1.600, 1.600, 1.600, e 2.600 circa, e chiude, sopra, quella zona, pronto, appunto, allo slancio, per il break, del suo massimo, fatto qualche giorno fa, se già oggi fanno una cosa del genere, questo trend potrebbe continuare, tranquillamente, se c'è lo shock da parte della Federal Reserve, con un taglio dei tassi inferiori all'attesa, il 2 novembre, si vola, e questo non c'è dubbio, se invece la Fed rilascia le cose come stanno, e rialza i tassi a 0.75, allora non succede niente, ecco perché, un po', questo pastetto gratis, no, speculativo lo si dice, vabbè, provo, poi magari potrebbero un po' prendere i mercati, e ridurre un po', il price, perché magari, se non fa uno shock di rialzo, quindi se rialza, sempre a 0.75, magari poi, chi ha fatto la speculazione esce, e quindi potrebbero fare una serie di vendita, va bene, detto questo, andiamo domani a vedere la live, per il Contest FDX Contest 2022, e andiamo anche poi, a vedere tantissime cose questa settimana, quindi iscrivetevi al canale, se ancora non l'avete fatta, e se non mi avete lasciato il mi piace, non vi dico la coin, che farà 1000% l'anno prossimo, e qual è? E che ne sono? Ciao! Ciao!